E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione speciale del pomeriggio di speciale News Web 24. Vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo prima di salutarvi che noi oggi seguiremo due eventi, il primo alle 19 all'Albero dei Vichi per la presentazione del libro di Giulia Ciarra Pica, una volta e abbastanza, e poi se tutto andrà bene saremo anche a Piazza Duomo per seguire e darvi interviste inerenti. L'Opera Pagliacci. Prossimo appuntamento con speciale News Web 24 con la prima edizione del nostro giornale. Domani mattina alle 9 a tutti, grazie per averci seguito, buon pomeriggio e serata.